Ecco, allora, l'ufficializzazione ovviamente dei punteggi, Tatiana Velozofia, Maxine Trankov, 195,07, 185,16 per Pangetong, c'è un bello stacco, nonostante gli errori, perché ciò sta a significare che comunque la giuria e tutto il pannello tecnico apprezza la coppia russa, perché a 10 punti, nonostante tutti gli errori, il corto di ieri, è evidente che piace. Sì, moltissimo, anche perché andando a vedere anche nei PDF hanno avuto punteggi altissimi, anche 9 per lo skating skill, ci sono stati dei 9,25 per la coreografia, per l'interpretazione e qui stiamo guardando ovviamente i padroni di casa, i campioni nazionali che hanno così conquistato la loro prima medaglia come team in un Grand Prix, dunque è davvero un inizio di stagione importante per Katie, Danny e John Coughlin, Fabrizio. Sì, finalmente anche per loro iniziano a vedersi un po' tutti i risultati, per loro a questo punto la stagione non inizia che in un ottimo modo, adesso bisogna però confermare questo ottimo risultato anche nella prossima tappa di Grand Prix e anche durante tutta la stagione fino ai mondiali. E andate a concentrare comunque sui components perché un 6,82 ottenuto nelle transition ovviamente dà da riflettere, dovranno lavorare, sono rimasti poi sul 7 per tutto quello che riguarda i components e bene o male tutti d'accordo nella giuria, quello è il loro valore. Ed ecco qui, questa coppia straordinaria che dunque per la terza volta ottiene l'argento a Skate America, una coppia di grande longevità, non erano ben allenati ma mi sembra che abbiano risposto assolutamente in maniera positiva in questo free skating, Fabrizio. Sì, un po' di delusione abbiamo avuto con il programma corto di vedere queste grandissime coppie che non erano così pronte ad affrontare una tappa di Coppa del Mondo, poi forse c'è stato il problema alla ginocchio di Tong, però insomma sempre una coppia straordinaria, anche loro però ancora forse un po' troppo presto. E allora naturalmente è giusto che a vincere siano stati Tatiana Volososcia e Maxine Trankov, seppur appunto in una gara che è stata macchiata, come giustamente ricordava Fabrizio, da tanti problemi coppie che siamo ovviamente solo all'inizio, lo ricordiamo, programmi nuovi e dunque naturalmente forse anche avere la coppia è più difficile, quindi i vincitori di Skate America sono Tatiana Volososcia e Maxine Trankov. Bene, noi vi salutiamo ma vi diamo appuntamento alle 20.40 circa per seguire insieme l'ice dance, il free dance e poi subito dopo il Free Skating Ladies in diretta sempre da Seattle. Grazie a Fabrizio Pedrazzini, grazie a Arianna e a Arianna Secondini, buona serata, vi aspettiamo più tardi. A dopo.